Uccellino in gabbia, canta per invidia o canta per rabbia? Invidia e rabbia sono due dei sette vizi capitali e certamente il nostro uccellino siculo, imprigionato in gabbia com'è, non può fare altro che cinguettare e cantare invidiando rabbiosamente chi è libero di volare. Infatti è proprio l'invidia il grande male contemporaneo. Invidia dal latino invidus derivato da invidere, composto da in dentro e videre, vedere significa vedere dentro ma anche vedere contro. Ed è tra i sette vizi capitali quello più inconfessabile. Con l'avvento dei social, ogni bacheca personale somiglia ad un piccolo palcoscenico in cui ciascuno mostra il meglio di sé nascondendo le brutture, la tristezza e le maschinità nel retroscena. Questa forma di pubblicità personale continuata presenta però dei meccanismi sociali altamente destabilizzanti. Recenti studi hanno infatti evidenziato che l'uso prolungato dei social può generare, soprattutto nei giovani, forti sentimenti di inadeguatezza, depressione, rabbia ed infine devastante invidia. La vita che ci appare perfetta degli altri, i loro tanti like, i loro selfie stuzzicanti in cornice esistenziali da sogno, possono indurre a forme di profonda insoddisfazione, che spesso viene appunto dirottata in forme rabbiose di invidia più o meno latente. L'invidia, nell'era in cui la vita privata di tutti, offerta allo sguardo collettivo e sociale, è il sentimento più diffuso ma anche quello più inconfessabile. Dammi mille baci, poi cento, poi ancora mille, poi di nuovo cento, poi senza smettere, altri mille, poi cento, poi quando ce ne saremo dati molte migliaia, li confonderemo, anzi no per non sapere e perché nessun malvagio ci possa invidiare, sapendo che ci siamo dati tanti baci. L'invidia, male sociale davvero capillare, si esorcizza solo con dosi massicce di autostima e di amore incondizionato. Ma non bisogna essere semplicistici e pensare che sia un male che colpisca solo chi ne è vittima. L'invidia è, come tutti i sentimenti umani, un dare ed avere una partita doppia, un rapporto reciproco, sia pure molto malato e falsato. Avete mai fatto caso che ci sono persone che pur avendo tutte le fortune e tutte le qualità, sono amatissime e tenute nel cuore di tutti? L'invidia deriva infatti molto spesso da una tracotante esibizione di sé, da un senso di mancata autostima che si riverbera in un eccessivo e troppo compiaciuto sbandieramento di fronte agli altri, a volte anche inconscio, dei propri successi e fortune. La via migliore per non suscitare invidie, le quali sono molto perniciose, è quella di porgerci usando molto understatement. In dialetto messinese esiste un termine tecnico per questa parola, mensukulu, tenendoci sempre un tono sotto rispetto alle nostre possibilità, proponendoci con vera umiltà e tanto cuore, affinché le nostre fortune suscitino sempre empatia e gioia anche negli altri che ci seguono e che ci vogliono stimare, perché l'invidia alla fine, si sa, non è altro che una sincera ammirazione. Quindi cerchiamo il lato buono e trasformiamo il male in bene. Possiamo! Senti, amico mio, ma fai una cortesia a essere mezzo colo nella vita, un tannacare, quando parli è un tannacare, mezzo colo, capisci? Me capisci? Me capisci? Me capisci? è una lingua attualmente parlata da 600.000 persone e fa parte del gruppo delle lingue indoeuropee e a rischio di estinzione. Adotta il dialetto messinese, salva la tua tradizione!